bentornati ad una nuova puntata di chiaro talk questa settimana è l'ospite davvero straordinario perché un ospite d'oro possiamo dirlo perché antonio tartaglia forse più giovani adesso lo scopriranno perché ormai sono passati un po di anni però perché già da qualche anno in più o comunque chi si informa sulle vicende abruzzesi non può non ricordare la medaglia d'oro alle olimpiadi invernali nel bob unica medaglia d'oro olimpica abruzzese questo lo sottolineiamo perché è anche un record e soprattutto una medaglia in uno sport invernale che arriva dal mare tanto antonio benvenuto grazie di essere qui con noi grazie a te intanto saluto tutti quanti mi fa molto piacere ti dividi tra roma e casa al bordino la tua terra quindi insomma in un incastro di questi giorni invernali trovato anche il tempo per venirci a trovare sono passati 24 anni a febbraio 25 però per chi ha vissuto è perché comunque mare acqua scolta non c'era era piccolo non ricorda però è un'impresa straordinaria e immagino che sia una cosa che tu ricordi sempre con piacere non potrebbe essere altrimenti no no certo certo quando diciamo soprattutto quando sono in viaggio che sei da solo e la mente spazia quando mi vengono in mente quei momenti scappa sempre o la lacrimuccia se qualcuno mi ferma dice che è successo oppure sì comunque l'emozione no e si è sempre tanta anche perché poi diciamo per come è successo è impossibile non ricordare di particolare diciamo ricordiamo medaglia d'oro nel boba 2 alle olimpiadi di nagano che erano le tue terze olimpiadi quindi diciamo nello sport più in alto della medaglia d'oro non esiste alle olimpiadi non esiste niente cioè quindi tu e il tuo compagno sì certo l'Uber l'Uber sì siete arrivati cioè siete stati i più bravi del mondo in quel caso anche per una circostanza siete arrivati a pari merito con un'altra nazione però voglio di loro sta lì e conservato a casa dove sta non ce lo diciamo no vabbè è in cassaforte naturalmente anche se magari il valore affettivo è molto di più di quello che può essere però si è custodita arrivi da casa al bordino abbia detto il tuo compagno di squadra si chiama Uber sappiamo negli sport invernali proprio giorni fa vedevo un programma in cui parlava di tomba no? il tuo compagno è stato una leggenda ed è stato anche un unicum perché era bolognese non seccava niente con i vari tueni no tutti questi nomi anche degli italiani che gareggiano negli sport invernali e poi arriva Antonio Tartaglia da casa al bordino dalla spiaggia di casa al bordino che tra l'altro insomma 25 anni fa era anche un po' più larga rispetto ad adesso vince la medaglia d'ora in uno sport invernale c'è una roba straordinaria sì 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 diciamo Adel anche perché sì io praticamente fino a poco prima di fare dei test per andare a provare il Bob non sapevo neanche cos'era la verità anzi magari se vuoi ti racconta anche un aneddoto assolutamente perché diciamo nella storia per arrivare a quest'oro immagino che ci siano anche una serie di circostanze di incastri uno dei tanti diciamo è un mio collega di Isef perché a quel tempo frequentavo l'Isef lui conosceva un preparatore atletico che aveva lavorato nel Bob e mi fa guarda questo qua sta cercando degli atleti e tu hai visto fisico nel senso perché non vai a vedere come funziona e da lì diciamo è nato ho conosciuto questo preparatore e poi mi ricordo sono tornato a casa nel weekend pensa che fortuna praticamente trasmettevano alla vecchia tele Monte Carlo i mondiali di Bob a Sam Moritz mi ricordo io non sapevo praticamente l'ho conosciuto in televisione la prima immagine era il gennaio del 1990 mi ricordo ho chiamato i miei genitori dite io dovrei andare lì ecco sì lo sai le classiche scene e mia madre già aveva i capelli è pericolosissimo anche perché diciamo per chi non ha in mente io sono un appassionato di Bob ma dello slittino di quelli da ragazzi in cui si gioca il Bob olimpico è una roba allucinante velocità 130, 140, 150 è un proiettile in cui ci si fia dentro e si va in un tunnel di ghiaccio cioè è una cosa folle sì no poi nel senso comunque fisicamente richiede una preparazione molto particolare perché lavora lavori come chi fa i 60 indoor diciamo però con una quantità di palestra diciamo un po' più esagerata perché comunque la struttura deve reggere tieni presente che in curva in certe curve si arriva anche al 5 g di pressione sulla schiena sì sì non certo il passaggio è veloce perché come dicevi tu a 130 km orari è un centesimo o due centesimi di secondo quello che può essere però la pressione è importante e bisogna essere preparati fisicamente molto bene ecco il Bob a due diciamo ognuno dei due atleti ha un ruolo tu eri il frenatore si dice così giusto frenatore che non frenava già più perché frenatore è un vecchio un vecchio termine quindi lì c'è la cosa fondamentale è la spinta all'inizio perché poi è una gara di velocità quindi chi va più veloce quindi chi si mette nel ghiaccio più velocemente poi presumibilmente se il pilota è bravo quindi la fase della spinta quindi bisogna perché quanto pesa un Bob? e praticamente con l'equipaggio il Bob a due arriva a pesare 390 kg e noi eravamo svantaggiati perché Uber pesava 90 kg più o meno e io 106 a quel tempo e però gli altri piloti tipo il canadese pesava già lui solo lui 102 kg diciamo di conseguenza noi dovevamo zavorrare il mezzo e spingevi un mezzo da 190 kg mentre gli altri avevano 15 kg meno di noi diciamo quindi il tuo compito nell'equipaggio era quello della spinta e poi una volta fatta la spinta perché chi non l'ha mai vista nella gara di Bob a parte che c'è la gara di Antonio quindi si può vedere quella che è così vi gasate pure cioè proprio poi anche le telecronache di 25 anni fa hanno quel valore adesso sono tutti più moderni però lì con le immagini si spinge e poi ci si infila dentro e lì il tuo compito finisce visto che non si frena più oppure? no diciamo non finisce perché poi lavori con il pilota diciamo nel senso nelle traiettorie chi sta dietro le ricorda la pista a memoria cerchi di sentire la pressione fondamentale che in uscita curva ti deve spingere in avanti magari quando ci sono dei problemi in alcune curve si parla a fine discesa per cercare di capire quale può essere il problema e sì però diciamo la parte principale che si fa è la spinta e di conseguenza perché qui l'ho rivista proprio stamattina c'è la spinta poi tu sei il segreto entra prima il pilota e si deve infilare tu continui a spingere e devi buttare dentro e immagino pedate che vi date lì e poi stai lì tu la gara non la vedi la salla devi ricordare devi ricordare tutto a memoria su una roba che dura meno di un minuto sì 54 secondi più o meno sembra una cosa che se spingiamo sediamo sul bomba invece devi avere delle capacità oltre che fisiche anche psicologiche e psichiche allucinanti no sì sì soprattutto diciamo in quel momento io quello che ricordo diciamo quasi un loop mentale nel senso io mi ricordo soltanto di guardare il tracciato mi ricordo il tifo ma come un rumore assordante no tu non senti se talmente focalizzato nel fare quello che fai e sentivo tutto tipo un rumore e basta non sentivo forza niente e poi si se hai visto anche i miei occhi in partenza ci vuole tanta cattiveria nel senso anche perché immagino che la preparazione in cui ci si allena in parte a terra perché bisogna preparare bisogna insomma la parte fisica e poi si va lì voglio dire quando ci si allena capita di sbagliare ti è mai capitato di ribaltarti sì 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 in allenamento un po' di volte sì diciamo ci si fa male ci si fa insomma non penso che sia la cosa più comoda del mondo il bomba no 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 assolutamente un po' lividi no no lividi assolutamente poi sì nel senso come dicevi tu il fatto di stare in una posizione aerodinamica più basso 6 cioè cerchi la posizione aerodinamica che provi in galleria del vento di conseguenza devi cercare di coprire tutti i buchi che sono dietro al pilota per far sì che l'aria che si crei il vortice sulla tua schiena e poi una cosa fondamentale quello che dicevi prima tu mi spinta che vedi che io corro però lì praticamente il passaggio è fondamentale nel senso quando sali sul mezzo tu devi continuare a spingere non devi tirare indietro perché perché magari rischi che rallentino sì bravo perché fondamentale la velocità di uscita e al secondo intertempo se la velocità di uscita non è buona come dovrebbe essere si incominciano a perdere i centesimi e quello è fondamentale diciamo nel vostro caso avete vinto la medaglia d'oro a pari merito bastava questo e su una cosa di 190 kg più altri più vuoi cioè pensare a che limite ci sia poi è veramente basta un nulla quindi ci vuole una perfezione no sì sì che forse viene sottovalutata anche forse diciamo quella leggenda dei giamaicani e poi ne parliamo che non so se l'hai conosciuto ma sono curioso anche di questo cioè diventa quasi però è veramente una cosa è come la formula 1 cioè nessuno è meno sì 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 solo che c'è tanto fattore umano no perché alla fine noi siamo il motore e stare lì al 100% non è semplice perché bene o male lì era una temperatura abbastanza accettabile eri intorno ai meno 4 e avere prestazioni e salire su un mezzo che sei a 30 km orari con delle scarpe chiodate sul ghiaccio non è semplice però devo dire che assolutamente il paragone è giustissimo perché il mezzo è veramente curato nei particolari se ne ricordo male cioè proprio venivano studiati nella galleria del vento della Ferrari sì 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 e sei andato anche tu sì 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 sono andato anche senti ma quando diciamo tu eri all'università all'Aquila se non ricordo male hai conosciuto dici ok vieni a provare hai sto fisico tu devi venire per forza perché in maggio ci sia anche carenza no di persone che vogliono quando sei arrivato ai primi ritiri e gli allenamenti immagino che erano 30 non so dove vi allenavate no la mia prima esperienza che la ricordo come se fosse ieri diciamo mi ricordo sono partito con il treno naturalmente è arrivato a Vipiteno dopo 12 ore di viaggio sono arrivati noi in hotel che c'erano tutti gli esperti perché erano già gente che conosceva e gli altri che cercavano di spaventarmi no la velocità oddio prendi delle botte pazzesche tu sai sti racconti e tu stai lì e poi mi ricordo ci siamo messi sul pulmino partenza verso Dresda altre otto ore di pulmino e a quel tempo era appena caduto il muro di Berlino perché era 90 marzo del 90 e lì diciamo anche questi racconti continuavano anche in pista perché poi sono andato a vedere la prima discesa però devo dire che ero talmente tanto presente diciamo non lo so sai quelle cose che tu provi e provi già che ne so dici no mi piace voglio capire come funziona quindi in 90 tu poi sei andato subito alle Olimpiadi sì 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 hai iniziato sempre con Uber no avevo un altro pilota all'inizio e perché sì non avevo tanta esperienza tu fa conto che io sono passato da fare due barra tre allenamenti a settimana perché facevo atletica e facevo lanci però a me piaceva più la velocità però chi mi allenava a quel tempo che ero su a mestre niente voleva che io facessi lanci alla fine non sono riuscito non hai fatto che la velocità nei lanci hai fatto poco però insomma hai vinto un medagliatore quindi bene così quindi subito l'Olimpiadi nel 90 sì 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 sono arrivato lì e diciamo sono passato non avevo nessuna esperienza avevo 22 anni però non avevo esperienza diciamo anche di allenamento di fisico non ero pronto per poter far parte di un equipaggio diciamo forte forte e in effetti sì da lì diciamo è incominciato tutto il percorso poi il 94 sì poi il 94 e anche lì ero sì era ancora acerbo diciamo dovevo ancora sì capire tante cose sì incominciando tardi diciamo è sì ho dovuto quasi sempre rincorrere no però diciamo che la rincorsa poi anche perché poi nel frattempo abbiamo parlato della medaglia olimpica perché più di quello non c'è niente però diciamo che sono mondiali vabbè titoli italiani credo sei di fila una cosa del genere immagino che c'è la concorrenza della massa cravate però poi ci sono mondiali europei quindi diciamo il medagliere di casa Tartaglia ma confrontarsi ecco c'erano altre persone che non erano diciamo in Trentino cioè del nord Italia o eri proprio l'unico di tutte le squadre no quando sono arrivato io c'erano anche altri atleti sì Puglia ah ok sì c'era qualcuno diciamo qualche meteo diciamo soprattutto nella fase immagino che nella parte di equipaggio posteriore l'importanza si hanno quelle delle attitudini fisiche cioè non bisogna saper sciare sai sciare? no no sì scendo io dico scendo hai imparato all'epoca sfruttando la squadra o già sciato? no no devo dire che è mio zio Paolo allora praticamente dal ragazzino mi portava sempre a sciare quindi c'è un'attitudine con la neve e il ghiaccio già ce l'avevi sì sì tutto sommato senti vinta la medaglia d'oro è una cosa che mi incurio voi finite la discesa avete capito subito che eravate ora credo che siete scelsi dopo l'altro equipaggio sì sì alla fine però in un attimo lì chi c'era che va detto perché come siete scesi già c'è uno degli allenatori all'arrivo diciamo che ti fa o così o così quindi voi correvate per basta che vedi se sorridi se sorridi o meno diciamo si capisce subito senti e da allora ti è cambiata la vita? ma è cambiata sì nel senso alla fine comunque è stata un'esperienza importante perché sì diciamo qualsiasi atleta quando fa attività sportiva agonistica sogna una medaglia e quando ci arrivi diciamo sì a parte tutti i sacrifici perché come hai detto tu io ho incominciato da zero a 22 anni ho dovuto costruire il mio fisico che per carità anche mio papà aveva costruito perché quando andavo male a scuola avevamo un'impresa edile mi portavo con lui diciamo facevo una palestra naturale alla fine bisogna ringraziarlo certo io sempre 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 è stato io dico sempre è stato il mio primo preparatore atletico lui praticamente erano tempi senza i social quindi in maglia cioè anche lì la comunicabbi a casa a Casalbordino tutti quanti stavano guardando anche perché se non ricordo male era anche di notte c'era un orario no praticamente la mattina la mattina presto sì la prima match era perché noi scendevamo lì in Giappone alle 15 e 30 mi ricordo qua tipo 8 ore intorno alle 8 8 e 30 mi pare di mattina la prima match non c'erano i cellulari per poter fare il selfie per chiamare finita la gara avete festeggiato e poi la prima persona che hai sentito con chiamata immagine intercontinentale dal Giappone si si i miei genitori fanno famiglia e loro come cioè per loro cosa è stato anche perché ho studiato mi sono fatto aiutare Casalbordino adesso non mi fa piangere no 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 Casalbordino nel 98 abbiamo chiesto d'aiuto al comune aveva 6500 abitanti ok quindi diciamo nella statistica mandare un concittadino alle olimpiadi è già una percentuale cioè proprio che non lo so ne capiterà un anno non so se ne capiterà l'altro di Casalbordino che va a fare le olimpiadi di quei 6500 credo non so far addirittura forse era 6501 non mi vorrei sbagliare ma potresti essere quell'uno di più e vincere la medaglia d'oro per un piccolo paese il primo abruzzese cioè è una roba epocale tant'è che poi quattro anni fa diciamo ti hanno intitolato oggi quando si arriva a Casalbordino andate a vedere perché non l'ha visto si arriva nella città di Antonio Tartaglia cioè è stata una grandissima emozione in effetti ringrazio tanto l'amministrazione veramente il sindaco gli assessori perché per me è stato un bellissimo momento diciamo avere il paese che si ricorda di quel giorno di quel momento è bello è bello anche perché poi sei tornato un paio di giorni dopo poco dopo quando sei tornato in Italia eh sì sono tornato dopo otto giorni perché poi abbiamo fatto anche la gara di Boba 4 e poi sono tornato sono rientrato sì dopo otto nove giorni e lì c'era un paese in festa ci sono le immagini che adesso visto che a febbraio abbiamo fatto il conto del 25 il nostro regista Nicola Cinquina era già lì e quindi sarà l'occasione per ritirarle fuori perché insomma per chi non le ha per chi le ha vissute è bellissimo per chi non le ha vissute si rende conto magari capisce non il valore di questa cosa tornare nel paese e trovare quell'accoglienza poi ti devo far piangere per forza lo so però penso no è una cosa che ma non lo so indirettamente ti dico se tu senti anche vedi l'intervista che io ho fatto alla Rai praticamente che mi hanno chiesto ma secondo te cosa starà succedendo a Casalbordini io ho detto subito una rivoluzione nel senso dentro di me perché alla fine veramente è stato sempre mi hanno sempre oddio mi hanno sempre sostenuto nel senso anche quando mi allenavo cioè sì nel senso c'era sempre qualcuno che si interessava devo dire che è stato un paese presente molto presente hai fatto anche il Bob A4 qual è la differenza e soprattutto il tuo ruolo come cambia nel Bob A4 io sono appena dietro il pilota praticamente il secondo si devi salire e lì è ancora più complicato diciamo perché in un ambiente molto stretto si è in quattro e bisogna liberamente nel Bob A4 i tre fanno la stessa cosa che fai tu da solo quindi è soltanto è soltanto e comunque il pilota è sempre la stessa cosa però diventa più complicato perché quattro persone devi fare squadra ognuno deve avere rispetto per l'altro e diciamo noi abbiamo fatto sempre un po' di fatica nel quattro invece con Uber era no sì diciamo era anche se eravamo diversissimi sia forse l'unica cosa che ci accumulava diciamo era il fatto la determinazione la voglia di arrivare la voglia di lavorare sui particolari era per l'obiettivo era era maniacale diciamo veramente mi sono trovato con lui sotto questo punto di vista poi su altre cose erano completamente diverse diciamo non so quanti ce ne sono dove ci si può allenare si fa fatica ne parlavamo anche prima di iniziare a registrare questi sport cosiddetti minori che sono però quelli che poi nei momenti oltre ci portano le medaglie però poi ce ne dimentichiamo hai continuato a restare nel mondo dello sport e non nel mondo dello sport davvero non si può fare proprio niente per avere un sostegno non quando solo quando arrivano le medaglie perché poi nonostante tutto arrivano le medaglie però potrebbe arrivare di più no sì sicuramente adesso vediamo con il progetto olimpia di torino torino scusa milano cortina e 2026 sicuramente c'è un progetto però è difficile diciamo perché bisogna avere mettere delle persone veramente in gamba perché le strutture costano tanto gestirle costano tanto anche perché poi se non si fa alla fine come torino della pista del bob proprio in questi giorni riguardavo una è riuscito fuori l'articolo di quella pista che potrebbe essere magari la fucina dei campioni invece sta lì ormai no sì purtroppo secondo me lì è stata un'esperienza molto negativa io la ritengo anche per le nostre discipline diciamo bob slittino skeleton che hanno lavorato per anni su quella pista è stata veramente una mancanza in tutto diciamo non so il sistema perché alla fine non voglio neanche giudicare però secondo me non cioè queste cose non devono assolutamente anche perché poi è vero che uno si può allenare ovunque tu ti allenavi sulla spiaggia però poi se devi andare sul bob devi andare sulla pista non puoi provarla sulla pista da sci di di roccaraso devi avere l'impianto per il bob e magari anche più di uno perché poi non puoi penso allenarti per 11 mesi su una pista e non provare mai altro no ma ti dico anche la gestione di un impianto perché ti ripeto i costi sono molto elevati perché poi comunque sei costretto a girare diciamo comunque devi andare però una pista propria ti permette di fare test sui materiali ti permette di far crescere i giovani perché alla fine a un giovane anche scendere per 15 giorni 20 giorni sulla stessa vista va bene comunque devi imparare le ghiacce diciamo puoi strutturare un lavoro a lunga scadenza mentre in altri momenti quando non hai la struttura per lavorare diciamo diventa un po' più complicato oggi in Italia non c'è ci sono impianti no funzionanti nessuno non c'è niente no no purtroppo no e sì in effetti adesso gli atleti sono andati ad allenarsi prima della stagione in Norvegia sì diciamo i classici giri che facevamo anche noi tanti anni fa come squadra e sì solita solita situazione diciamo però nel senso c'è fiducia in un ambiente che secondo me può crescere ma bisogna cercare di collaborare di più come ti dicevo anche prima nel senso anche aprirsi a soluzioni nuove io ho fatto anche il direttore tecnico un periodo avevo proposto tante cose anche un progetto scuola che sono riuscito anche a portare a termine perché alla fine ho portato tre ragazzi neofiti che non conoscevano il Bob a scendere con il Bob è stato un bel momento e ci vogliono tante cose diciamo che bisogna mettere insieme si richiede tanto lavoro hai fatto questa esperienza da direttore tecnico resti comunque nel mondo dello sport oggi con anche in altre discipline come tecnico no sì poi tornando giustamente a Casalbordino ho cambiato diciamo rotta e adesso lavoro con gli sport estivi diciamo tra virgolette e sì sto collaborando diciamo sono sempre nel centro sportivo dei Carabinieri faccio il masso fisioterapista e il preparatore atletico però diciamo questa ho frequentato anche un master in strategia per il business dello sport poi un master in fisioterapia diciamo mi sono fatto un'esperienza a 360 gradi nel mondo dello sport diciamo sia la parte pratica che sto facendo adesso ma anche quella dirigenziale gestione dei soldi e quanto altro gestire una squadra allenatori atleti e sì diciamo una bellissima esperienza vita in questo momento spero di valorizzare queste mie conoscenze per poter metterle in pratica sempre di più in futuro senti prima accennavo della famosa questione della squadra giamaicana che era diventata unicola tu li hai incrociati erano gli anni dove c'eri anche tu e poi sono diventati i miti anche con la pubblicità però il film praticamente era si parlava dell'olimpiadi dell'88 di Calgary diciamo io ho incominciato nel 92 però mi ricordo che noi cioè il film fu lanciato qualche anno dopo mi ricordo la presentazione noi come squadra l'abbiamo fatta a Milano in un cinema a Milano e c'era tutta la squadra nazionale che partiva per l'olimpiadi è stato più un aiuto un po' per la diffusione del Bobbo magari ha un po' messo troppo scherzo su una cosa che invece era seria come per voi che eravate diciamo le squadre tra virgolette un aiuto per come dire mettere una pulce nelle orecchie delle persone diciamo però alla fine cioè tu che ti sei allenato tantissimo giustamente vedi quel film e dici cioè non so che credibilità ho cioè tutto non c'entra praticamente niente tutto quello che si vede è una polia è fantascienza diciamo però cioè ci ha aiutato nel senso che tanti ne parlano ancora adesso beh sì quando dicevi la scuola di Bobbo giamaicana resta diciamo una di quelle cose quasi mitologiche ormai no? assolutamente sì ha segnato diciamo è stato un momento per noi importante perché comunque ha fatto conoscere il nostro sport anche se in maniera diciamo pittoresca tra virgolette però comunque ha fatto venire curiosità poi sì all'atto pratica nel senso se vedi gli allenamenti che facevo gli allenamenti che si fanno diciamo capisci che non è proprio che non è la stessa cosa e a distanza di tanti anni la storicità e l'unicità di una medaglia d'oro olimpica ricordiamolo sempre perché insomma è sempre bene no? resta nei ricordi anche se poi ecco forse bisognerebbe ricordarsene un po' più spesso perché poi man mano che gli anni passano no? c'è bisogno di segni di ricordare perché sono cose che segnano la storia di uno sportivo innanzitutto perché poi tu e il tuo compagno e gli allenatori e quindi chi l'ha vissuta segnano comunque la storia di una di una nazione e nello specifico poi della comunità di riferimento quindi avere questa attenzione che dopo vent'anni venticinque anni continua a esserci ti fa sentire un po' più la responsabilità comunque di essere comunque una persona che ha dato grazie ai suoi sacrifici che poi nulla viene regalato certo maggio che insomma ti sei dovuto dare da fare parecchio rinunce sacrifici tantissimo anche perché hai avuto una carriera comunque lunga tantissimi infortuni infortuni quali sono cioè quelli da la sollecitazione strappi muscolari io ho strappato ho avuto sia a destra che a sinistra tutte e due le gambe diciamo sì come ti ho detto nel senso è incominciato tardi per me è stata veramente dura fisicamente no perché sì ho avuto tantissimi infortuni purtroppo però alla fine sono sempre senti quando ripensi a quella gara un centesimo cioè che poteva certo sarebbe stato d'argento e quindi magari andava bene anche lo stesso però ci pensi a che valore ha un centesimo nella tua vita un centesimo di secondo no cerco di essere di tagliare tutto perché cioè tieni presente che la gara è in quattro manche noi abbiamo incominciato il primo giorno di gara le prime due manche con 5 centesimi di vantaggio e già lì incominci col cuore a 3.000 seconda manche 3 centesimi c'è la notte di mezzo che è stata una notte penso la notte non hai dormito se ho dormito 35 minuti perché comunque sì era in continua agitazione però nel senso sei anche sereno perché hai fatto il tuo diciamo beh lì eravate un po' visto che nelle due esperienze precedenti non erano arrivate le medaglie eravate in posizione di outsider o c'era l'aspettativa invece di dobbiamo andarci a prendere l'oro ma sai non vai per l'oro però tieni presente che le ultime due gare di coppa del mondo le abbiamo vinte noi di avvicinamento all'Olimpiadi quindi stavamo bene eravate quelli col favore del pronostico sì sì poi rispetto agli altri noi siamo arrivati all'ultimo momento abbiamo fatto tre giorni di allenamento e siamo scesi per la gara diciamo alla fine eravamo in un momento diciamo dove devo dire avevamo tanta fiducia tutto l'ambiente aveva fiducia poi non è che pensi lotto per una medaglia quando parti poi naturalmente l'appetito viene mangiando quando sei lì in effetti un anedoto che è successo tra la terza e la quarta masce siamo arrivati giù e il mio pilota la Germania aveva preso un distacco un po' più ampio e il mio pilota dice allora vabbè medaglia d'argento è sicuro ormai stanno a mezzo secondo questi col cavolo che perdiamo a mezzo secondo e io l'ho guardato l'ho preso per il collo non ti permettere di pensare una cosa del genere anche perché noi gareggiamo al 100% per fare il massimo poi se arrivo secondo mi sta bene tutto anche perché lì gli intertempi quando ci sono gli intertempi voi avete dei segnali ci sono dei segnali no 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 cioè lì vai vai a tutta no nel senso cioè non è come nelle moto ogni giro ti dicono quanto distacco cioè lì a casa lo vedi e quindi a casa ci si casa il telegramista lì voi andate a tutto e basta sì a tutta sempre poi nel senso anche io ti dico alla fine non ho quasi guardato nessuno all'arrivo perché la discesa è stata perfetta e tu la senti perché la senti diciamo ti spiegavo prima la pressione la senti dietro che spinge che la velocità c'è c'è stata una piccola imperfezione però alla fine senza di quella magari potremmo avere da soli la medaglia d'oro però cioè senti che comunque hai fatto una bella gara che il pilota ha guidato bene che cioè la sensazione era molto buona diciamo diciamo te ne accorgi te ne accorgi da solo sì con l'esperienza sì capisci senti la velocità e quanto altro diciamo senti adesso tu lavori negli sport diciamo estivi ma per queste olimpiadi che ci saranno che ci saranno in Italia beh c'è già stato Torino e avrai modo di insomma comunque rivivere un po' ma diciamo alla fine sai un po' ho trascorso tantissimi anni sulla neve io nel senso fortunatamente adesso è stata mia moglie a riportarmi un po' prima a casa al bordino però diciamo l'idea c'è sempre stata di tornare diciamo magari che ne so in pensione o quello che era perché comunque sono un uomo di mare nel senso noi avevamo la casa al mare io all'estate trascorrevo fino a 18 anni tre mesi al mare cioè è sempre una cosa che mi è mancata diciamo non sono un uomo di montagna il lavoro mi ha portato lì però diciamo comunque l'idea c'era di tornare adesso devo dire che preferisco guardarmele se me le guarderò diciamo però sai quando arrivi a un certo punto che anche l'esperienza che ha avuto diciamo è stata un po' un po' ha rovinato quella magia sì sì quella magia che diciamo mi sarei aspettato più come dire anche da direttore tecnico ho fatto quattro anni molto pesanti due anni con la federazione commissariata e noi l'anno dell'olimpiadi cioè siamo partiti tardissimo con la preparazione cioè sono cose che poi quando ci sei dentro lo sport capisci che beh poi esatto magari contribuiscono a farti perdere quell'entusiasmo che magari avevi sì quell'entusiasmo è venuto meno poi sicuramente c'è il Bob e lo sport ancora adesso mi sento con l'allenatore che è il mio atleta diciamo che ho seguito per tantissimi anni diciamo per 12 anni 10 anni l'ho seguito di conseguenza lui adesso è allenatore seguo lo sport ce l'ho sempre al cuore nel mio cuore e se dovesse capitare diciamo qualche atleta giusto sarò il primo ad inviarlo però giustamente poi la vita come dire ti dà tante altre esperienze comunque lo sport resta sempre la base insomma vi iniziato da ragazzo a studiare per quello hai avuto la possibilità di svolgerlo però magari ecco quando adesso saranno l'olimpia a spiegare ai ragazzi come si vince una medaglia d'oro lo puoi andare a raccontare ma quello assolutamente ma magari sarò anche presente diciamo non ho pensato da qui a un po' di anni cosa farò diciamo però alla fine sono come dire quando tu fai un percorso comunque mi ha dato tanto mi ritengo una persona fortunata perché ho conosciuto tante sfaccettature dello sport agonistico che adesso cerco di riportare diciamo con gli atleti con i quali lavoro cerco di migliorare le situazioni visto che sei insomma tra Roma e Casalbordino voglio dire anche l'Abruzzo farebbe bene ad attingere da te la tua esperienza quello devo dire che è un mio obiettivo nel senso a me piacerebbe inserirmi sempre di più nel mondo sportivo abruzzese perché cioè quantomeno avere momenti di confronto per poter non dico far crescere un ambiente perché sicuramente è super maturo però portare un'esperienza diversa diversa diciamo di che ha vissuto lo sport ad altissimi livelli ripeto lo risottolineo io la medaglia d'oro e la medaglia d'oro alle olimpie dice non si scherza ti ringrazio Antonio io ti ringrazio perché il nostro tempo starei con te a chiacchierare ore e ore per fortuna in questi anni ogni tanto capita perché io ero ragazzo ero ragazzo quando hai vinto poi io sono insomma sono uomo di mare però mi piace la montagna lo slittino più che il bongo è divertente quindi conoscere insomma un mito dello sport quindi è sempre piacevole chiacchierare con te quindi ti ringrazio veramente poi insomma sono giorni di vacanze di feste quindi ci hai regalato un po' del tuo tempo quindi grazie ma ci continueremo a sentire perché ora che sei più vicino quindi c'è anche più più facilità grazie per aver condiviso i tuoi ricordi anche con noi anche con le giuste lati perché poi ragazzi lo sport è emozione altrimenti sarebbe passano gli anni ma ogni volta è come quel giorno diciamo e penso che sia giusto sia bello così quindi è stato bello rivivere anche rivedermi le gare così mi sono preparato a questo incontro e insomma ci rivedremo sicuramente presto questa è l'ultima puntata del 2022 di chiaro talk quindi diciamo questo primo anno solare si conclude cioè direi che chiudiamo l'anno in bellezza poi noi ci vedremo a gennaio con Antonio ci rivediamo sicuramente a febbraio per il 25esimo ce lo segniamo perché insomma va celebrato certo quindi grazie per averci seguiti grazie di nuovo ad Antonio grazie a voi e anche buon anno ci vediamo nel 2023 con chiaro talk